Prima di fare il numero, dovremmi togliere il lucchetto che aveva messo mio padre con una chiave così piccola che non esiste. Noi di solito facciamo... non so se vi ricordate, si doveva cliccare tant'è volte facendo il numero e il telefono in Giappone punto a direi che non c'era l'identificativo delle chiamate, era una popoletta a muso, 3 miliardi e il mio padre mi portava, tutto il mese passava, tu fa luce e sta luce e il collega arriva sul burrottore ma chi ce l'ha mandato la mancina! Chi ha dato la chiamata? Chi ci sta anche in un po' di ragione? Ma non c'è anche un ruppato! Comunque devo una crescente! Chi ce l'ha mandato la mancina? E allora, però lei è quella di fare! A un certo punto vabbè, la chiamiamo, non è? Buon pomeriggio. Buonasera, sono giungo. Che versi tu? Qual'è? Sono maglio, maglio. Che siero? Un buon ruolo. Senti, il rumore di pianelle che si triscono nel lunghissimo polizone di marmo tirato a lucido, piombato da poco, fai quelle di pelle, ghiacciate. Io chiamo le blatte. Che sono le blatte che camminano con... Chiama Jessica, prima che Jessica risponde al telefono e te la pulisce. Ci le fa le squame e poi... Lei non ti ha squamata prima? Dico così, la disossata tutta. E accetti che ha l'occhio vivo, se no non te la presti. Dopo che ha buttato un po' di semi e risponde... Mi chiede... Siiii? Mi chiede. Mi chiede. Ma non ti ha dubbio, la pulite, mi chiede. Io non è capace, perché già te ti immagino che... Ciao, no, no, no. Ti ricordi? Sii! Mi chiede. Ti ricordi. Io dobbiamo andare a far culo su. Allora... Avete a te una pizza? Stasera tipo... Sii. Pfff. Mi chiede. E' un buon ruolo. Allora prendiamo il limonium dentro la germina, il termine della plus, 150 miliardi di cose che cattuppano, tappi di zucchero con limone all'interno, fino a quale riesci, la punta entra alle 9 e ci vai alle 7 un quarto, l'ansia, dai due giri al calazzo e chiamano la polizia, ti fermano alla proficcia del calazzo e gli sono in giro, vanno a capire, c'è il portiere, il portiere non c'è, perché poi ci dobbiamo prendere alle 9 alle 10, il portiere già non c'è, ci togono, e gli sente, e allora in quei quartieri non so se vi è capitato una mica, lei abita al nuovo piano, ma siccome sono più le 10, il citofon, non, siete alla finestra, e per vogliare che ci togono, con la gara fuori, e la scritta, tutti scritti con i cosi quelli che si prendevano a cosi, con la plastica quella... ha vinto o la práca, dai, dai no, dai no, dai no! Lo bruzzo! un ucchia scritta così, una cosa che sbalva. Si sbalva via la merda perché buttava il mezzotino di plastica. Ma ho pronta perciò metto il suo capiente. Poi ci sono i segnali degli zingari che ti dobbiamo rubare a casa e poi ti dobbiamo rubare ai punzanti. Dopo la via lo punzo il primo piano e risponde a quello del nuovo piano, che era Jessica. E risponde il suo padre. Buonasera, sono Mario. Ma non lo punzo. Sì, sta scendendo. E scende. Non è che ridiamo questa cosa che la donna non è scendono le puntuali. Ma se si catafotte perché ho da fare, non perché... Scende che è un grandissimo e qua appena vedi tutta la ruggine pulata in avanti di... ti si compie veramente, è che è un pezzo di cosa allucinante. Cioè, mini gomme e scegliere. Le calze due denari. Coloccarle. Che non so, a me mi fanno attisare. Cosa che è un gioco, ma c'è un gioco a peso, due denari. Scarpa con un tacco altissimo, il modello... i martelli dei Pink Floyd. E il culo che sta altissimo. E il culo che sta altissimo. Praticamente hai due golpe, due medali. Due minne... assurde! Da un vecchio che le lasciano le minne grosse e poi le finiranno le minne piccole. E il culo che le faccio.